guarda che sguardo ho già fissato la casa che tu guardi? la riprendi così si riprendi così si sta riprendendo come si impegna come si impegna andate nel telefono non si è messo a avvicinare io scappo io non posso dire che sta fatta magari un'altra io scappo mi vuoi dire ma dai che somma chissà come è si mi riprende l'arrivo in alto presso non ti ha mai fatto un basso oddio no no non già posso fare ancora devi stare sulla cattedra io vedo attraverso il telefono presso presso chiudete il sportello dai vedete sta alza alza no presso presso no presso presso no mamma mia no presso 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 prepariamoci mettete un po' di zoom francesca chiudete qua oddio presso chiudete già questo fa non parlate prendi piano piano questo fa non scatto viene in faccia proprio non ha fatto presto potrei chiudere non già far mai chiudere ti ho mangiato guardate 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 riprendi francesca riprendi che mi sta parlando ecco ecco secondo me secondo me questo mi sta parlando questo mi sta parlando che schifo questo lo stai lisciando mamma che schifo non lo so faccio stare non lo so non lo so piano 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 per favore ecco questo mi afferra il dito oh ma direi vedete come faccio questo non ce l'avevi trovato questo non ce l'avevi trovato dove l'avevi trovato professora l'avevi trovato Nikita prima non metti la mano dove l'ha trovato Francesca mettiti più vicina no no c'è il zoom professora non mi preoccupare il zoom il zoom presto Nikita dove l'ha trovato che schifo ma Nikita Nikita quindi sta pure Nikita e c'è sta qui ciao bello ciao bello ciao bello ciao bello spin spin